Io già cinque anni fa ho annunciato che sarebbe stato l'ultima volta che praticamente lavoravo in Consiglio Comunale quindi è una cosa maturata già da tempo e ho avuto modo di dirle a Luigi che questo non significa un mio disimpegno ma significa che a un certo punto non puoi continuare proprio per le cose che stasera sono state dette la capacità diciamo di interloquire con gli altri, con le nuove generazioni e quindi c'è una consapevolezza di questo tipo però io penso che la competenza che uno acquisito, che sono quasi 50 anni che io sto in Consiglio Comunale ci sono entrata che tenevo 29 anni e oggi ne tengo 77, non li nascondo perché ritengo che anche questo è un privilegio quello diciamo di poter dire, di aver lavorato e di continuare ad avere delle idee per l'isola io mi metto a disposizione della squadra in modo tale che i giovani possono essere accompagnati con l'esperienza acquisita da chi come me sta in Consiglio Comunale da quasi 50 anni grazie